Un ennesimo caso di violenza domestica si è verificato in un'abitazione di campagna nell'area del Savuto, a figli Nevegliaturo in provincia di Cosenza. L'uomo in stato di ubriachezza le avrebbe scaraventato in faccia a un comodino dopo averla affrontata e picchiata con pugni e calci. Nella disperazione la donna è riuscita a sottrarsi alla furia che la stava ulteriormente investendo e a raggiungere con il volto tumefatto e insanguinato un'abitazione vicina dove ha trovato le prime cure e dalla quale è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Rogliano, i quali hanno poi appurato che i dissidi tra i due andavano avanti da qualche giorno. La coppia farebbe parte del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.